Gioia e tristezza, sentimenti contrastanti commuovono la comunità di Bitonto, specie della frazione di Palombaio, paese d'origine del neoeletto vescovo più giovane d'Italia. Don Vito Piccinonna è da poco giunto nella diocesi di Rieti e resterà nel cuore di tutti, perché è un punto di riferimento importante, un amico speciale. La distanza, specie in casi come questo, porta con sé un velo di malinconia, ma nei racconti di chi lo ha accompagnato fin qui, predominano l'orgoglio per il traguardo raggiunto e la consapevolezza del fatto che abbia un cuore grande da poter amare oltre ogni confine. Come avete appreso e preso la notizia della elezione di Don Vito a vescovo della diocesi di Rieti? Beh, indubbiamente all'inizio è stato un colpo, perché comunque siamo rimasti dispiaciuti, perché sarebbe andato via, però è chiaro che poi subito dopo è scoppiata la gioia, perché è una nomina più che meritata, perché Don Vito è un'esplosione di iniziative, di tante belle cose, quindi merita questa nomina. Com'era il suo rapporto con la comunità parrocchiale? Qual è il ricordo più bello che legate a lui? La sua presenza è silenziosa, nel senso che lui c'è, se qualcuno ha bisogno lui c'è, però non con manifestazioni eclatanti. Io personalmente gli sono grata perché mi è stato molto vicino quando ho perso mia madre. Quindi il suo saluto e augurio a Don Vito qual è? Eh beh, di ogni bene e di non dimenticarsi di noi, come noi sicuramente non ci dimenticheremo di lui, perché è nel nostro cuore e di lì non si sposterà. L'augurio è quello che continua ad operare come ha operato nel nostro santuario, con la comunità, con l'accostamento ai piccoli, sempre attento, anche se un po' sempre distaccato, senza è, però ti seguiva da lontano, è chiaro, ma ti seguiva sempre. Come avete preso la notizia di questa elezione? Io personalmente l'ho presa in un primo momento un po' frastornata, poi mi sono calmata e ho detto no, è una grande gioia, è un onore per il nostro santuario, per la nostra comunità, quindi con gioia ma con un pizzico di tristezza per l'allontanamento, però siamo di passaggio, quindi non possiamo intervenire o interferire nei progetti di Dio. Don Vito come persona è preparata e non ostenta la sua preparazione molto, ma è umile con tutti. Una presenza silenziosa, ma costante insomma, anche per la comunità parrocchiale della Basilica dei Santi Medici. Auguri Monsignor Vito Piccinonna.